benissimo buongiorno a te ea tutte le tue compagni e i tuoi compagni questa è la seconda lezione riguardante la quarta egloga in cui prendiamo in considerazione i testi del materiale digitale quindi la quarta egloga se volete tenetela a fianco sul libro di testo ma voi vedrete sul schermo del vostro device i testi che ho inviato sul materiale digitale e che in parte ho anche già commentato durante le lezioni precedenti in presenza o anche nell'ultima mezz'ora di lezione guardiamo i testi uno per uno e vediamo se abbiamo lasciato fuori qualcosa il primo testo è esiodo le opere i giorni erga cai e merai in cui si parla appunto del passaggio dall'età dell'ora d'età del ferro questo testo è stato considerato molte volte una fonte di virgilio e ne ho parlato anche nell'ultima video lezione testo successivo è un'immagine del serpente groboros ne ho parlato più volte anche nell'ultima video lezione il testo 10 nel test di catullo appartenente alla generazione immediatamente precedente quella di virgilio ne ho parlato nell'ultima video lezione il passaggio da un'età dell'oro in cui gli uomini vivevano con gli dei a un'età del ferro in cui non c'è nemmeno la capacità da parte dell'uomo di vivere tranquillamente in famiglia tant'è che non c'è più rispetto né per i parenti né per i genitori ecco il testo 11 invece non era stato considerato è un testo tratto dal deconiurazioni catiline di sallustio che appartiene alla generazione immediatamente precedente a quella di virgilio sallustio è un contemporaneo di cesare questo sallustio voi lo conoscete già perché lo avete studiato probabilmente durante durante la terza quindi io non ne parlerò ampiamente in questo testo tratto dal deconiurazione catiline sallustio spiega come la società romana si sia degradata nel tempo un tempo si rispettavano i buoni costumi c'era concordia tra le classi sociali non c'era sete di denaro c'erano giustizia e rettitudine senza che si obbligassero per legge i cittadini a rispettarle ma erano naturali la giustizia e rettitudine si era liberali cioè generosi nei sacrifici agli dèi fedeli verso gli amici eccetera ma questo accadeva una volta poi la sorte iniziò a incrudelire a mescolare ogni carta perché perché crebbero le ricchezze e il desiderio di potere la sete di denaro sovverti la lealtà l'onestà e le altre buone qualità e al loro posto vennero introdotte superdi e crudeltà trascurare gli dèi ritenere tutto in vendita molti divennero falsi ipocriti valutavano le amicizie e le inimicizie non dai fatti ma dall'utile quindi secondo sallustio la ragione del degrado sociale si trova nella ricchezza più si è ricchi più vengono meno la giustizia e la e le virtù tradizionali dopo che le ricchezze iniziarono a essere onorate a loro tennero dietro alla gloria il potere il prestigio il valore inizia a idebolirsi la povertà essere ritenuto una vergogna l'innocenza una prova di cattiva volontà con le ricchezze diffusero fra i giovani l'amore per il lusso la copiligia e la superbia volevano tutto consumavano tutto stimavano poco ciò che possedevano desideravano una roba altrui non facevano conto ne davano valore al pudore alla pudicizia le cose divine quelle umane cioè anche secondo sallustio la società sta vivendo una fase di declino sallustio non parla del ritorno dell'età dell'oro parla invece del declino della società non parla del ritorno dell'età dell'oro ma è evidente che anche in sallustio c'è questa esigenza di rinnovamento morale è interessante perché nel passo successivo a quello letto della quarta ebloga un passo che appunto io non vi ho presentato direttamente ma lo cito non passano virgilio dice che la decadenza di roma comincia nel momento in cui si la d scusatemi la decadenza sociale comincia nel momento in cui si naviga la navigazione è vista da virgilio ma anche dagli autori precedenti anche da esilio come un segno del degrado lo spostamento degli uomini sulla terra è un segno della decadenza perché ci si sposta per trovare da mangiare perché non c'è più abbastanza cibo nel luogo dove ci si trovava in origine ma quando ci si sposta poi si deve fare le guerre perché si deve sottrarre il cibo a qualcun altro che già stava lì quindi lo spostamento dei popoli lo spostamento delle persone è visto come un segno negativo come un segno di decadenza come un segno di degrado perciò la navigazione un male l'andare in giro per male un mare e sallustio ci dice praticamente la stessa cosa quando è iniziata la decadenza di roma è iniziata quando roma ha cominciato a fare conquiste un tremare per virgilio e per sallustio il progresso è sempre un ritorno all'indietro questa cosa ve l'ho detta più volte ve la ripeto ancora perché è importante le civiltà antiche hanno un'ideologia essenzialmente conservatrice il bene sta sempre nel passato nel passato si stava meglio perché nel futuro si stia di nuovo meglio c'è bisogno di far finire questo ciclo temporale c'è bisogno che il mondo venga distrutto e rinnovato e quando il mondo viene distrutto e rinnovato non si crea qualcosa di nuovo ma si ritorna al punto di partenza il bene sta sempre nel passato noi oggi che vediamo la storia come una linea che va dal passato verso il futuro cioè una storia lineare che siamo religiosi oppure no vediamo il futuro sempre con un senso di positività tant'è che per noi la parola progressista la parola positiva ci sono dei partiti progressisti delle ideologie progressiste il progresso una parola che ci piace l'uomo con il progresso tecnologico scientifico è riuscito a migliorarsi e migliorerà sempre questa è l'idea che anche i laici socialisti positivisti hanno introdotto nella nostra mentalità è un'idea che però viene dalla mentalità giudaico cristiana cioè dal fatto che il tempo ha un inizio e ha una fine fa verso il meglio il tempo è una linea così credevano gli ebrei così cristiani così musulmani tuttavia non per tutte le civiltà e così il tempo non è interpretato così dalle civiltà indiane e non era interpretato così dalle civiltà antiche per cui era un ciclo perciò il bene stava nel passato nel mondo antico la parola res 9 le rivoluzioni o le novità è una parola negativa vuol dire sia le novità sia le rivoluzioni queste res 9 erano secondo gli antichi da evitare come la peste c'è bisogno quindi di un cambiamento radicale un cambiamento radicale che era teorizzato da alcune filosofie dell'epoca abbiamo visto nella scorsa lezione il magnus annus di nicidio ficulo la tradizione pitagorica ma abbiamo visto anche nelle lezioni ancora precedenti che anche gli storici credevano in una ec purosis da pure più ros che in greco significa fuoco cioè in un incendio di tutto il mondo tutto il mondo sarebbe incendiato conflegrazio si dice in latino conflagrazione e con questa distruzione del mondo dell'universo anzi direi si sarebbe tornati al punto di partenza un'iragina che noi potremmo definire apocalittica allo stesso modo si parlava sempre in ambito storico di apocatastasis apocatastasis cioè di un ritorno di tutte le cose nel luogo originario tutto torna al suo posto il filosofo nice nel novecento al scusate tra la fila alla fine dell'ottocento dice muore nell'anno 1900 si ricorderà lui esperto del mondo antico di questa concezione antica con la sua teoria dell'eterno ritorno cioè tutto è destinato a tornare perché viviamo in un ciclo temporale non ciclo cronologico quindi state molto attenti a quello che fate a come vivete ogni momento della vostra giornata e della vostra vita perché questi momenti che voi vivete torneranno in eterno andiamo ora avanti con i nostri testi della quarta egloga il testo di isaia l'abbiamo visto nella lezione precedente ecco i testi successivi dal 13 in al al 16 riguardano la rilettura da parte dei padri della chiesa di questo testo virgiliano non è scontato che questo testo virgiliano sia stato interpretato in modo cristiano ci sono alcuni padri della chiesa che negano recisamente che il testo abbia sfumature cristiane ad esempio girolamo nel quarto secolo dopo cristo quindi siamo quattro secoli dopo virgilio in età in cui l'impero è già diventato cristiano dice ac noc ac noc sic ac non sic ietiam maronem cioè virgilio sine cristo possimus dicere cristiano qui scripserat iam reditet virgo puerilia sunt ec vedete cioè dice che coloro che credono che virgilio sia stato cristiano è definito puerile puerilia sunt ec cioè queste cose sono cavolate queste cose sono stupidate puerili ok solo perché virgilio ha detto ha scritto iam reditet virgo cioè ora torna la vergine si riferiva alla vergine maria cristo sono cavolate virgilio rifiuta precisamente questa adesione di virgilio al cristianesimo anche altri padri della chiesa non ne parlano ad esempio ambrogio non dice nulla di questa che pur amava i testi antichi non dice nulla di questo riferimento il riferimento nasce soprattutto per opera di agostino agostino scrive nel quinto secolo dopo cristo quindi scrive un secolo dopo girolamo l'impero è ormai cristiano e guardiate che cosa dice virgilio guardate cosa dice agostino rompendo quindi ogni indugio cerchiamo rifugio nelle grazie di colui al quale con tutta verità si può dire ciò che affermava ad aver appreso dalla sibilla cumana sta parlando di virgilio che ha preso dalla sibilla cumana come da un oracolo profetico il poeta che in un carmio adulatorio scritti in onore di non so qual nobile personaggio disse se rimangono ancora delle tracce del nostro delitto sotto la tua guida sperando del tutto libereremo la terra dal continuo terrore ha citato il brano di virgilio che abbiamo letto poc'anzi se rimangono ancora tracce del nostro delitto scelus libereremo la terra dal continuo terrore agostino dice che è un carme adulatorio scritti in onore di non so qual personaggio cioè dice che non è riferito a cristo e pur sempre vero però che la sibilla cumana essendo una profetessa ha detto qualche cosa di reale che poi virgilio ha frainteso cioè cosa dice agostino agostino dice la profezia è vera anche se virgilio si è sbagliato virgilio si è sbagliato perché pensava a nemmeno lui sa più chi asigno pollione il figlio marcello chi lo sa non lo sappiamo chi sia ok tuttavia non ha sbagliato la profezia con tutta verità si può dire ciò che affermava ad aver appreso dalla sibilla cumana c'è una profezia che aggirava veramente secondo agostino il primo a credere in una profezia realmente circolante fraintesa da dirgilio era stato l'attanzio un secolo prima di agostino un autore cristiano minore che aveva scritto demortibus persecutorum cioè la morte dei persecutori nel frattempo dall'attanzio a agostino l'impero si è del tutto cristianizzato e fu probabilmente un certo eusebio di cesarea che era uno storico della chiesa grande amico di costantino e il suo pane girista c'è colui che ne scriveva gli elogi per eusebio costantino fu una sorta di messaggero di cristo fu una sorta di di cristo tornato in terra per cristianizzare l'impero e fu proprio eusebio per primo a interpretare cristianamente questa questo passo virgiliano perché perché l'impero ormai si doveva cristianizzare costantino lo cristianizza quindi il più grande poeta dell'impero che è stato virgilio deve in qualche modo aver fatto riferimento al cristianesimo quindi dal tempo di girolamo che nega dicendo che queste affermazioni sono puerili al tempo di agostino un secolo dopo che cosa è capitato è capitato che l'impero si è del tutto cristianizzato quindi c'è la necessità di interpretare cristianamente il poeta che ne è stato diciamo così il primo cantore virgilio ancora agostino perché all'infori di cristo signore non ve ha fatto alcun altro al quale il genere umano possa rivolgere le seguenti espressioni se ancora rimangono tracce del nostro delitto spereranno del tutto e libereranno la terra dalla continua paura stesso passo di prima che cita di nuovo queste espressioni virgilio confessa ad averle copiate dall'oracolo di cuma cioè della sibilla cumana questa profetessa infatti aveva probabilmente udito in spirito qualche presagio riguardante l'unico salvatore e reputò su dovere rivelarlo agostino dice che la sibilla è stata veramente una profetessa e aveva probabilmente udito in spirito qualche profezia e reputò su dovere rivelarlo virgilio copia le profezie dalla sibilla cumana poi le fraintende ma la sibilla cumana non ha sbagliato ancora agostino nella decivitate dei la sua opera principale la città di dio i vostri oracoli come tu stesso scrivi hanno dichiarato gesù cristo santo immortale di lui anche il più alto poeta virgilio ha detto certo con un discorso poetico perché nella persona vagamente accennata di un altro ma con verità se a lui lo riferisci con la tua guida se rimangono alcuni tracce del nostro peccato libereranno il mondo dalla perenne paura allora anche qua solita citazione la terza volta che la fa agostino nella persona vagamente accennata di un altro come diceva prima di un non so quale personaggio quindi facendo un encomio qualcuno disconosciuto virgilio in realtà anche se non lo sapeva ha detto la verità ma con verità se a lui cioè a cristo lo riferisci virgilio ha utilizzato una profezia fraintendendola ma senza saperlo ha detto la verità perché parlava di cristo quindi in modo provvidenziale anche a prescindere dalla sua volontà personale virgilio ha detto la verità su cristo anche se non di peccate ha parlato tuttavia di tracce di peccati scelus no perché anche in uomini molto avanzati in virtù possono rimanere a causa dell'insufficienza della vita terrena esse cioè le tracce dello scelus del peccato saranno guarite soltanto da quel salvatore per il quale è stato formulato il verso citato cioè qua sta dicendo che il verso citato provvidenzialmente è arrivato nei nostri libri con un riferimento al salvatore anche se virgilio non lo sapeva perché è importante questo verso secondo agostino che cerca in questa opera la città di dio di salvare al tempo delle invasioni barbariche tutto ciò che c'è di buono del mondo umano ecco c'è da salvare la profezia della nascita di cristo quindi c'è da salvare virgilio infatti virgilio nel quarto verso dell'egologa dichiara che non è una sua affermazione personale quando dice è giunta già all'età dell'oracolo di cuma da ci appare indubbiamente che il fatto fu preannunciato dalla sibilla di cuma cioè secondo agostino la sibilla di cuma è esistita ed ha indubbiamente annunciato la nascita di cristo la sibilla cumana eccola qua appunto è stata poi in seguito proprio per queste ragioni virgiliane e agostiniane interpretata come una profetessa avevamo visto tutte le immagini già nella lezione in classe tutte le immagini della sibilla presenti nelle chiese qua sta immagine ad esempio nel duomo di siena c'è la sibilla cumana in mezzo ad una chiesa come se fosse una santa e dietro di lei i versi vedete di qua della quarta ecloga venit cumei ultima etas la sibilla di domenico ghirlandaio con il verso della quarta ecloga siamo nella chiesa della santa trinità a firenze la sibilla posta tra i profeti nella cappella sistina di michelangelo siamo alla fine del quattrocento quindi la sibilla vedete cumea è chiamata cumea cioè cumana insieme alle altre sibille sono poste e posta in mezzo ai profeti dell'antico testamento perché come i profeti dell'antico testamento hanno preannunciato la nascita di cristo così ha fatto la sibilla guidoreni agli uffizi di firenze nasce tur de virgine c'è scritto in questo cartiglio la sibilla prende in mano una carta in cui c'è scritto nascerà da una vergine come se fosse un passo virgiliano in realtà è un passo biblico cioè guidoreni addirittura in questa immagine confonde la bibbia volutamente probabilmente confonde la bibbia con l'egloga il passo nascerà da una vergine un passo di isaia ma è messo in mano alla sibilla cumana guardate in questa incisione del 1612 la nascita del puer questa è un'incisione della quarta egloga vedete sotto nelle parole appunto cioè sono dei versi della quarta egloga rappresenterebbe la nascita del puer ma com'è questa nascita del puer rappresentata come la tipica natività di cristo con la stella che sembra la stella cometa ma in realtà sarebbe sarebbe la virgo astrea la giustizia di cui parla la quarta egloga di virgilio al al verso 6 e gli animali che vivono insieme il lupo il leone insieme con il bue l'iconografia della quarta egloga è uguale all'iconografia della natività di cristo guardiamo nella cantoria dell'organo di asola che raffigura la sibilla in cui astrea è raffigurata come la vergine maria astrea appunto è sempre questa virgo che è citata al verso 6 dell'egloga vedete che questa donna guarda un bambino in alto ecco qua vedete guarda un bambino verso l'alto qua mentre la vergine è raffigurata come la vergine maria bene qua abbiamo un'ultima immagine che viene dal codice detto Virgilio Ambrosiano dove Petrarca riunì tutta l'opera di Virgilio con i commentari e in questa opera sono radunati tutta una serie di interpretazioni allegoriche delle bucoliche come se le bucoliche appunto fossero un ricettacolo di interpretazioni allegoriche di cui andavano ghiotti medievali e come ultimo testo infatti guardiamo quello di Dante nel ventiduesimo del purgatorio in cui il poeta Stazio dice a Virgilio tu prima mi inviasti verso Parnaso a bere nelle sue grotte e prima presso Dio mi illuminasti cioè Stazio poeta cristiano sta dicendo a Virgilio tu mi hai illuminato presso Dio facesti come quei che va di notte che porta il lume dietro e se non giova ma dopo se fa le persone dotte quando dicesti secol si rinnova torna giustizia e primo tempo umano e progenie scende dal cielo per te poeta fui per te cristiano cioè Stazio sta dicendo a Virgilio tu hai fatto come colui che va di notte che porta una lampada dietro di sé che non è utile a lui a sé non giova ma dopo se fa le persone dotte cioè ma serve alle persone che stanno dietro di lui Virgilio ha illuminato tutti i poeti successivi ha illuminato anche le persone del medioevo ha illuminato Stazio perché? perché ha illuminato la loro comprensione senza essere adotto lui stesso cioè Virgilio non ha capito niente ma grazie alle parole della sua ecloga ha fatto diventare cristiani gli altri cioè questa profezia non è servita a lui ma è servita a quelli che vengono dopo di lui ecco perché la luce se l'è messa dietro perché la lampada se l'è messa dietro perché lui non è riuscito a godere di questa profezia perché la fraintesa ma quelli che vengono dietro di lui invece l'hanno capita dopo sefa le persone dotte quando dicesti cosa dice per rendere dotte le altre persone che vengono dopo di lui dice le parole della quarta egloga secol si rinnova torna giustizia e primo tempo umano e progeni scende dal cennovo per queste ragioni dice stazio io sono diventato cristiano per te sono diventato poeta perché mi hai ispirato con la tua poesia e per queste parole della quarta egloga sono diventato cristiano ok vi terminiamo con una bella immagine di agostino eccola qua direi di aver detto tutto spero che voi vi ricordiate la lezione in cui ho parlato della Sibilla di chi è la Sibilla se per caso ve lo foste dimenticato ve lo ripeto nei prossimi 5 minuti se invece già lo sapete potete terminare qua l'ascolto e vi saluto ecco per tutti gli altri invece che hanno saltato questa parte di spiegazione vi ripeto la vicenda della Sibilla allora le Sibille erano delle antiche profetesse non sappiamo se fossero esistite o no veramente quello che sappiamo è che nel mondo romano esistevano dei libri Sibillini dei libri Sibillini cioè dei libri che contenevano le profezie delle Sibille c'erano numerose Sibille cioè numerose profetesse la più famosa è quella di Cuma la Sibilla Cumana che è citata anche da Virgilio nell'Eneide questa Sibilla era una profetessa che veniva ispirata dalla divinità viveva dentro una grotta e le persone andavano al tempo antico quindi non nel tempo storico ma secondo il mito a consultarla e secondo l'Eneide di Virgilio che cosa faceva? Lei poi scriveva i responsi alle richieste di coloro che la consultavano sulle foglie arrivava però il vento perché lei si trovava all'imbocco di una grotta quindi c'era una forte c'era un forte vento che entrava e usciva dalla grotta il vento scompigliava le foglie e anche la profezia si scompigliava e a coloro che erano venuti a consultarla aspettava il compito di ricostruire l'oracolo di ricostruire la profezia il risponso cosa che non sembra andava a buon fine perché? perché le profezie devono sempre essere un po' ambigue altrimenti quando poi non si realizzano è un problema per coloro che le hanno pronunciate tant'è che ancora oggi la parola sibillino significa ambiguo quando io ti ho dato una risposta sibillina ti ho dato una risposta ambigua che non è ben chiaro tutto questo al tempo della leggenda esistevano però a Roma dei libri sibillini cioè dei libri contenenti i presunti risponsi delle sibille e che erano conservati in un tempio di Giove c'è un'altra leggenda a questo proposito che è la leggenda di Tarquinio il Superbo si dice che Tarquinio il Superbo l'ultimo re di Roma abbia ricevuto una certa sera la visita di una vecchia questa vecchia le ha offerto l'acquisto questa vecchia ha offerto a Tarquinio l'acquisto di nove libri dicendo che erano libri molto importanti e ha chiesto un prezzo spropositato per questi nove libri Tarquinio il Superbo le ride dietro la vecchia in tutta risposta brucia tre libri ne rimangono sei e propone l'acquisto allo stesso prezzo Tarquinio comincia a pensare che questa sia pazza e le ride di nuovo dietro lei a questo punto getta nel fuoco anche altri tre libri quindi erano nove poi sono diventati sei adesso sono tre e di nuovo a un zanna ancora al prezzo offre questi tre libri a Tarquinio Superbo Tarquinio Superbo a questo punto incomincia a inquietarsi si interroga e se questi tre libri fossero veramente importanti e poi di acquista questi libri contenevano le profezie sul futuro dell'umanità e soprattutto di Roma vennero da quel punto in poi secondo la leggenda conservati nel tempio di Giove Capitolino dove c'era un collegio sacerdotale i cosiddetti quindecemviri quindecemviri sacris faciundis ok cioè quindici uomini dedicati a fare le cose sacre ai quali erano attribuite la custodia e l'interpretazione dei libri sibillini ok quindi questi libri sibillini esistevano veramente è chiaro che la storia di Tarquinio il Superbo è una leggenda e probabilmente le sibille non sono mai esistite però storicamente esistevano dei libri sibillini a Roma è possibile come vi ho detto nella lezione precedente anche in passato che in questi libri sibillini si riscontrassero delle influenze ebraiche e delle influenze giudaiche e quindi fossero collegabili con la Bibbia noi oggi non possiamo leggere quella raccolta dei libri sibillini perché andò bruciata in un incendio scoppiato in Campidoglio nell'83 avanti Cristo quindi nell'83 avanti Cristo i libri sibillini originari scompaiono dopo Virgilio al tempo di Augusto Augusto cercò di recuperare il recuperabile di questi libri andando a collezionare dei manoscritti di copiature di libri sibillini che c'erano in giro in altri templi per lo stato umano quindi recupera qualche cosa dei libri sibillini e ne rifà una collezione non completa come quella precedente l'incendio ma comunque rifà una collezione di citazione di libri sibillini al tempo dell'impero cristiano di questa seconda collezione dei libri sibillini si è persa completamente traccia quindi noi non possiamo leggere neanche la nuova raccolta di citazioni sibilline promossa da Augusto noi oggi possiamo leggere come vi dicevo prima una terza raccolta degli oracoli sibillini che però risale al VI secolo dopo Cristo cioè risale molto dopo l'epoca che stiamo considerando in un'epoca ormai tardo antica o alto medievale e sono dei libri del tutto assegnabili al mondo giudaico quindi con il mondo romano hanno poco a che fare bene ho ripetuto ancora la questione dei libri sibillini perché so che qualcuno di voi era stato assente in una lezione precedente con questo mio audio io ho terminato la trattazione delle ecloghe e quindi aspetto i vostri feedback spero di essere stato chiaro finalmente questo argomento è terminato saluto te e la tua famiglia e ti auguro buona giornata o se stai per mangiare buon appetito e ci sentiremo poi per la video lezione di italiano un caro saluto e ci sentiremo Grazie a tutti